Con quello di ieri in Regione si è aperto un intenso rush di incontri istituzionali sulla questione del ciclo locale dei rifiuti assorbita quasi del tutto dal futuro prossimo dell'Ato CL2 in liquidazione da quello degli asset a partire dal sistema di compostaggio di Brucazzi. Ieri nelle stanze palermitane c'erano l'assessore regionale Roberto Di Mauro ai vertici del Dipartimento Acqua e Rifiuti insieme al commissario liquidatore Ato Giuseppe Lucisano, al sindaco Lucio Greco e al funzionario del libero consorzio di Caltanissetta che è nella compagine di Ato. L'avvocato Greco e il commissario Lucisano non si discostano dalla direttrice fino ad oggi sostenuta. Ritengono infatti che l'impianto di compostaggio è già di proprietà a Ato e lo era prima dell'entrata in vigore della legge 9 del 2010, così ha spiegato Greco dopo l'incontro. È stata prodotta anche la sentenza amministrativa che ribadisce tutto questo e la circolare 2. Secondo Greco è escluso un passaggio a titolo gratuito alla SRR. Un'interpretazione che non dà adito ad altro se non alla piena disponibilità da parte di Ato dell'intero complesso impiantistico già in essere. In capo all'ambito ci sono inoltre le vasche di smesse di Timpazzo, AB e CD, per le quali è stato da poco presentato il progetto di capping. Anche ieri non c'erano i sindaci di Niscemi, Mazzarino, Riesi, Deglia, Sommatino e Butera. Sono il fronte che non riconosce più le scelte di Lucisano e che ha insistito per l'assemblea durante la quale si discuterà della possibile revoca del commissario. I sei sindaci vorrebbero una chiusura rapida della fase di liquidazione considerata fin troppo nerosa. Greco ha sottolineato che nonostante appunto la convocazione formale si è dovuto prendere atto dell'assenza degli altri sindaci. Il giorno precedente con una missiva avevano chiesto un differimento per progressi impegni istituzionali. Sembra comunque che il momento della verità possa manifestarsi durante l'assemblea di domani. Assessorato regionale e dipartimento si attiveranno inoltre per capire se sia mai stato rilasciato il parere sul tema dell'impiantistica e della gestione affidato all'avvocatura dello Stato. Greco si dice pronto ad illustrare quanto emerso già oggi nel corso della seduta monotematica del Consiglio Comunale, convocata proprio con questo ordine del giorno. Il giorno successivo invece è prevista l'assemblea Ato. Secondo il sindaco infatti la gestione commissariale non può essere trattata senza valutare con attenzione la normativa. Vanno garantiti i creditori, l'intero patrimonio di Ato e le disponibilità oltre all'impiantistica. Greco e Lucisano rimarcano ancora una volta che non ci sono soluzioni alternative che possano determinare un passaggio diretto e un subentro immediato di SRR4 e impianti SRR. I sei sindaci che non si riconoscono nella guida del commissario sono però di altro avviso.